Musica Tura al casino in osteria nei centri commerciali, furbetti del cartellino di Gorizia salgono a quota 14, danni alle casse della regione per migliaia di euro. Da alcune settimane anche nei tabaccai di Udine si trova la Easy Cannabis, sostanza legale perché ha bassissimo contenuto THC, è il business del momento. Ultimo consiglio provinciale a Udine dopo la riforma che ha tagliato gli enti intermedi, anche a Palazzo Belgrado, è pronto ad arrivare il commissario. Udine sarà il primo centro in Europa a utilizzare un'innovativa tecnologia per il trattamento radioterapico del tumore al seno. L'Udinese è arrivata a Napoli per il turno infrasettimanale, Odo calibra le scelte in vista del Crotone, domenica. Buonasera a tutti, ben trovati all'appuntamento serale con l'informazione di Udine News TV. Tra poco tutte le notizie di oggi che approfondiremo con i nostri servizi e con il contributo dal web di Davide Zanirato. Buonasera David. Buonasera Giorgia. Prima però la pagina dedicata all'Udinese perché è già vigilia di campionato, domani la sfida contro il Napoli. Allora buonasera anche a Dalice Mattelloni. Buonasera Giorgia, buonasera a tutti voi che ci state seguendo da casa. È vigilia di campionato, è infatti partita l'Udinese alla volta del San Paolo. Per affrontare il Napoli di Maurizio Sarri in questa 33esima giornata di campionato, noi cercheremo di collegarci perché in arrivo la squadra a Napoli con Maurizio Ferrari per avere tutti i dettagli e tutti gli aggiornamenti. Lo faremo in seconda parte ma nel frattempo ci concentriamo su quella che è stata la mattinata, un allenamento di rifinitura come di consueto e poi la conferenza stampa del mister. Fra le tante parole espresse quella della sicurezza, della salvezza e della necessità della massima concentrazione nonostante la difficoltà della sfida di domani. Ho detto che mancano sei partite e noi abbiamo sei punti. Tradotto, non bisogna vedere quello che si è fatto ma bisogna vedere quello che si deve fare. Siccome il cammino di questo campionato è nelle nostre mani, se cominciasse il campionato oggi pur avendo una partita difficile come il contro di Napoli domani, a sei partite alla fine e ai sei punti di vantaggio, io credo che questa paura debba scomparire. Tutto qua. E in più ho detto che io non sono sicuro, sono stra sicuro che non avremo problemi. Andiamo a Napoli considerando la partita seguente e considerando il fatto che chi scende in campo a Napoli deve fare tutto quello che può fare. Non è che andiamo battuti, ci mancherebbe. Coulibaly è un giocatore fortissimo, sicuramente nella difesa del Napoli, credo, se mi metto nei panni di Sarri, credo che sia un giocatore la cui mancanza possa pesare. So che se i punti sono tanti a questo punto del campionato, però tenendo conto che c'è lo sconto diretto, credo che, anzi sono certo che il Napoli non mollerà fino alla fine come giusto che sia. No, no, De Paul viene in panchina. Lo porto perché siamo corti. In caso di necessità, se dovesse servire per 15-20 minuti, 25 minuti, magari lo schiero. Come uscire da questo momento difficile? Come motivare i ragazzi a scendere in campo con grinta e senza timori? Il mister Bianconero ci ha provato così. Io penso che in questi momenti la cosa più sbagliata che ci possa essere è quella di rimarcare quello che è stato fatto male. Ma bisogna rimarcare le cose che sono state fatte bene. Io ai ragazzi ho detto che non posso credere che una squadra che parte come partita con la Lazio i primi 25-30 minuti e poi parte con il Cagliari come partita con il Cagliari poi possa trasformarsi per un qualcosa che si verifica in campo. È normale che le partite possano cambiare. Ci sono i momenti di sofferenza, i momenti di positività in campo come succede a chiunque, anche alle grandissime squadre. Einstein diceva che il successo non è altro che rialzarsi dopo un fallimento. Questo è anche riconducibile a una partita. Durante la partita ci sono momenti brutti, considerabili come fallimenti, da cui bisogna tirare fuori la testa e rialzarsi nella vita in generale. Nella partita devi reagire. E quindi questa è una sacrosanta verità. Noi quello che dobbiamo fare è essere consapevoli che si può soffrire ma essere consapevoli di poter fare di tutto per, nel nostro caso, uscire da un momento negativo. E nel corso di una partita da uscire da un momento di sofferenza. Ed è di poco fa una comunicazione da parte della società, una comunicazione di ringraziamento nei confronti dei tifosi per l'appoggio dimostrato alla squadra, alla società, all'ambiente in questo momento di difficoltà. La società ha preso atto non senza soddisfazione della presa di posizione dell'AUC, associazione Odinese Club, con la quale viene manifestato il sostegno alla squadra in vista dei prossimi decisivi appuntamenti sportivi. Particolarmente apprezzato è l'invito a reagire da friulani veri che non mollano fino alla fine, incuranti delle difficoltà. È evidente, infatti, come il clima attorno ai giocatori e ai tecnici debba essere positivo in funzione dello stimolo a conseguire i risultati che occorrono e che, anzi, a questo punto sono indispensabili. La società ringrazia quindi la tifoseria e auspica di poter rispondere con i fatti. Questo dunque è il comunicato, la comunicazione giunta dalla società per ringraziare l'appoggio dimostrato. Prima di concludere questa prima parte sportiva insieme e di aprire la parte dedicata alla cronaca, una notizia per quanto riguarda ancora il Napoli. Aspettiamo il link, una comunicazione da parte di Maurizio Sarri. Infatti, avevamo dato la notizia, ha perso Coulibaly per una giornata di squalifica e dovrebbe tenere a riposo anche il diffidato Mertens in vista della sfida decisiva all'Allianz Stadium. Torna invece Mario Rui in difesa dove ci sarà anche Chiriches, favorito su Tonelli. Questa è la prima parte sportiva. Giorgia, l'innavoi e ci vediamo nella seconda parte. Grazie Alice, a tra poco noi apriamo tornando sulla vicenda dei furbetti del cartellino. Ricordirete i sei dipendenti regionali che furono scoperti in orario di lavoro, al casino o a fare shopping. Ebbene, c'è un'evoluzione perché non sono più solo sei, ma se ne sono aggiunti altri otto, quindi sale a 14 il numero di questi furbetti scoperti dall'indagine fuori servizio partita nel luglio 2017. Per tutti l'ipotesi di reato è di truffa. Vediamo. Sono complessivamente 14 gli avvisi di conclusione indagini notificati ai furbetti del cartellino dipendenti della regione Friuli Venezia Giulia indagati dalla procura di Gorizia per l'ipotesi di reato di truffa. Dopo aver regolarmente timbrato il documento che attestava la presenza al lavoro, gli impiegati pubblici si davano alle occupazioni più disparate. C'era chi andava con l'auto di servizio nella vicina Slovenia a giocare al casino, chi trascorreva l'intera giornata agli stand della manifestazione culinaria a gusti di frontiera, chi faceva shopping. Altri dipendenti della regione si fermavano al lavoro solo mezza giornata. Dopo essere usciti da una porta secondaria si recavano a casa per pranzo e tornavano solo verso sera per formalizzare con la punzonatura del cartellino la chiusura del faticoso pomeriggio in ufficio. Diffusa anche la pratica del mutuo aiuto. Tra colleghi ci si scambiava il badge per una timbratura collettiva. L'indagine condotta dai carabinieri di Gorizia è stata conclusa e ai primi sei furbetti se ne sono aggiunti altri otto. I dipendenti sono stati pedinati per mesi e spiati dalle telecamere. Complessivamente il danno patrimoniale stimato alla regione Friuli Venezia Giulia da ciascuno degli indagati è nell'ordine di qualche migliaio di euro. La ricostruzione completa con i filmati delle telecamere all'interno degli uffici regionali e i documenti della prima tranche dell'indagine hanno reso possibile agli investigatori dell'arma e alla procura di raccogliere gli elementi necessari al coinvolgimento degli altri otto dipendenti regionali. Le accuse sono di danni ad ente pubblico e false attestazioni di presenza. A tre impiegati è stato anche contestato il reato di peculato d'uso per l'improprio utilizzo della vettura di servizio. La regione cosa dice, David? È arrivata una nota poco fa a Giorgia, la andiamo a leggere assieme. Il direttore generale Franco Milan mi ha informato stamani della questione specificandomi che si tratta della stessa indagine di Gorizia iniziata più di un anno fa e che vede ora, oltre ai primi sei dipendenti già licenziati perché condannati, altre e altre persone indagate. A parlare questo è Sergio Bolzonello, presidente facente funzioni della regione Friuli Venezia Giulia che aggiunge Attendiamo ora di avere l'accesso agli atti per conoscere le imputazioni, i nomi e le qualifiche degli indagati. Gli errori dei singoli, in ogni caso, ha concluso Bolzonello, non devono mettere in ombra le grandi professionalità che ci sono nel sistema pubblico. Cambiamo argomento. Da alcune settimane, anche in diverse tabaccherie di Udine, ha fatto la sua comparsa la Cannabis Light o Easy Cannabis, praticamente la marijuana legale perché dotata di un contenuto di THC del massimo 0,6% che è il limite imposto dalla legge italiana finché la sostanza venga considerata industriale o comunque non fuori legge. Siamo andati a capire di che cosa si tratta e a sentire come vanno le vendite. Diciamo che hanno delle caratteristiche, sono senza THC che è la sostanza che ti dà l'alterazione, ha soltanto il CBD che è una sostanza che ti fa rilassare, diciamo. Ce ne hai di due tipologie, maggiore di 14% e maggiore di 20% e io non ho provato, però so che mi hanno detto che hai delle sensazioni tipo di ti addormenta, diciamo, ti fa venire sonno, non è una cosa che ti crea alterazione, diciamo, a livello fisico, ti fa soltanto venire sonno. Comunque sono prodotti legali, commerciabili, come oggetto da collezione? Sono prodotti legali, venduti come oggetto da collezione. Cioè, poi quello che fai fuori dal negozio, diciamo, sono affari tuoi. Io li vendo come oggetto da collezione e devo dire che ne sto vendendo parecchie, tantissime. In una settimana ne ho vendute una cosa come 50 scatole. È iniziata questa possibilità di venderle da metà marzo, più o meno? Cioè, sono venuto a sapere da metà marzo perché entrando in altre tabaccherie di Udine ho visto che le tenevano, anzi hanno aperto anche qualche negozio a Udine specifico, solo di tutto ciò che riguarda la canapa e queste cose qua. Io ho visto che ci sono vari produttori che fanno, c'è J-Hacks, G-Pecane ho visto, ma anche altri, ne ho visti un sacco. Ma quello lì penso che sia solo una questione di marca, perché dopo di che quello che c'è all'interno penso sia sempre la stessa cosa. Poi varie produzioni, da dove arriva, dovrebbe essere tutto italiano. Quello che arriva da me è tutto italiano comunque, tutto prodotto in Italia. Quanto variano i prezzi? Allora, io ce le ho da 19,90 un tipo, è uno da 24,90, sono due grammi dentro. Però so che ci sono vari prezzi, però intorno ai 10 euro al grammo dovrebbe essere, poi un po' di più in base al CBD che c'è. Più CBD c'è, più costa. Andiamo ad approfondire, David. Sì, perché le citava proprio anche il tabaccaio, ci sono anche appunto questa Cannabis Light sponsorizzata da diversi personaggi che anche nelle loro canzoni hanno richiamato la Maria, per esempio Maria Salvador è il nome attribuito a questa linea firmata da J-Hacks. Lo vediamo in questo sito internet dove appunto si cita la recente riforma della legge 242 del 2016 che autorizza anche in Italia la vendita e l'uso della cosiddetta Easy Cannabis perché è dotata di un contenuto di THC pari allo 0,6% ed è stata anche l'occasione per J-Hacks di mettere in campo la propria vena imprenditoriale oltre che quella artistica. Così come Gay Pecquegno che è pronto a lanciare probabilmente anche il suo brand l'ha postato anche in una foto che è comparsa sui social e che richiama appunto questa volontà di Gay Pecquegno di lanciare anche il suo brand. Ma ci sono anche delle notizie che spiegano poi le ripercussioni attenzione perché c'è un caso che arriva dalla cronaca dalla Sardegna fumano cannabis light e risultano positivi ai narcotest perché i carabinieri hanno fermato questi ragazzi i militari impegnati in alcuni controlli hanno contestato due giovani automobilisti di essersi messi alla guida delle proprie auto dopo aver fatto uso di questa marijuana acquistata legalmente. Le analisi di laboratorio hanno stabilito che due avevano fatto uso appunto del cannabinoide i giovani sono rimasti stupiti quando sono stati fermati dai militari perché appunto hanno detto di averla acquistata legalmente e si spiega da parte dei carabinieri ufficialmente che questa legge, la 242 del 2016 non legalizza affatto la cannabis, insomma lasciano le interpretazioni e come molte volte accade in Italia per le leggi non legalizza il suo uso improprio infatti questa normativa analogamente a quanto accade per l'alcol o per le sigarette che il cittadino maggiore ne può acquistare liberamente nei supermercati il cui uso è vietato in determinate circostanze come appunto quando ci si mette alla guida. Quindi tecnicamente non è fuori legge, cerchiamo di capire, è legale però poi gli effetti sono quelli della cannabis infatti uno deve saperteli gestire eh sì, va bene cambiamo argomento un fatto di cronaca un meccanico troppo generoso veniva ricattato da dieci anni da una sua cliente, la donna in difficoltà economica aveva trovato una generosa spalla su cui piangere quando il meccanico ha negato il suo aiuto sono scattate minacce e ricatti sentiamo dopo dieci anni di ricatti prende coraggio e decide di denunciare quella donna che gli stava rovinando la vita a mettere fine alla vicenda al nucleo radiomobile della compagnia di Udine che dopo un'attenta indagine durata quasi un mese ha arrestato Daniela Udorovic classe 63 domiciliata a Martignacco con l'accusa di estorsione la donna porta la sua auto in riparazione nell'officina gestita dall'uomo una chiacchiera tira l'altra e la cinquantenne confida al meccanico di essere in gravissime condizioni economiche a quel punto l'uomo spinto da pietà decide di aiutare la cliente prestandole inizialmente qualche centinaia di euro con l'andare del tempo però le richieste diventano sempre più ingenti toccando anche i 10.000 e 15.000 euro nonostante la cifra decisamente importante il meccanico aiuta comunque la donna davanti all'ennesima richiesta l'uomo però nega l'aiuto alla cliente che a quel punto minaccia possibili ritorsioni nei confronti dell'attività messa in atto da parenti di etnia Rom scatta così la denuncia e l'operazione dei carabinieri che incastrano la donna con 2.000 euro consegnati in precedenza dal meccanico arrestata e condotta nel carcere femminile di Trieste Andiamo a Grado ora dove c'è un problema perché? Perché il presidio estivo dei Vigili del Fuoco nell'Isola del Sole è a rischio per carenza di fondi e personale ma attenzione perché lo stesso problema riguarda anche Lignano e Sacile è quanto emerso da un incontro tra le associazioni di categoria e i sindaci del Lisontino nel comune proprio di Grado Vediamo Il presidio stagionale di Grado dei Vigili del Fuoco al momento può essere garantito solo per 22 giorni Mancano infatti fondi personale e il comando provinciale di Gorizia è in seria difficoltà dovendo già fare i conti con la mancanza di almeno 20 operatori per l'attività quotidiana sul territorio A lanciare il grido d'allarme sono state le associazioni di categoria insieme al sindaco dell'Isola del Sole Raunia e ai primi cittadini di vari comuni zontini Un problema è quello del distaccamento stagionale che peraltro riguarda anche Lignano e Sacile Grado, Lignano e Sacile, tre distaccamenti che devono in qualche modo rispondere alle esigenze del cittadino e che nel periodo estivo danno dei risultati dal punto di vista del soccorso Noi abbiamo l'esigenza di risolvere il problema Lo possiamo risolvere solo attraverso un incremento del personale in questo caso del comando di Gorizia e semmai anche del comando di Udine perché anche Udine è in carenza di personale In maniera tale che questi distaccamenti diventino non più SDR cioè che non hanno personale a disposizione fisso ma che diventano distaccamenti effettivi dei vigili del fuoco anche per rispondere alle esigenze dei cittadini nei periodi di invernale Quanto personale manca? Noi abbiamo l'esigenza di circa 20 unità per quanto riguarda il distaccamento di grado e stessa cosa per quanto riguarda il distaccamento di Lignano e di Sacile Presente all'incontro a grado anche il prefetto di Gorizia Marchesiello consapevole della gravità del problema In questo momento il comune e la regione danno disponibilità finanziaria L'interesse e l'esigenza è obiettiva quindi non si può prescindere dalla necessità di avere un distaccamento operativo nel periodo estivo qui a grado Faremo di tutto perché anche altri comuni ci diano una mano Questo è il senso anche della mia presenza qui oggi Alcune notizie di oggi David Sì a proposito di vigili del fuoco nel frattempo mentre attendono i rinforzi in queste località continuano a intervenire quotidianamente come è capitato oggi dove il maltempo e l'incuria ha fatto crollare una parte della storica Villa Veneta in comune di Campolongo Tapogliano e c'è stato anche un allarme per la viabilità sono intervenuti, lo vediamo assieme dal sito del Gazzettino i pompieri per il cedimento che ha riguardato una porzione della residenza di proprietà privata che si affaccia sulla provinciale 54 e appunto i vigili del fuoco sono intervenuti per smassare il materiale crollato sulla carreggiata e poi è stata emessa anche un'ordinanza di messa in sicurezza del sito per prevenire altri disagi sempre a proposito di altre notizie dalla web c'è una fotonotizia che troviamo da Udine Today in questo caso si parla di parcheggio selvaggio a Udine vicino al teatro Giovanni da Udine una macchina infatti in divieto ha intralciato il traffico impedita ad un autobus di passare sono situazioni che si stanno verificando sempre più spesso qui in città Giorgio è vero, è vero ve le raccontiamo sempre più spesso l'inciviltà del parcheggio andiamo alle altre notizie di oggi nelle nostre pillole di cronaca cura di Luciana Idelfonso e partiamo da un sequestro di merce per 250 mila euro al China Ingro Market di Pradamano occhiali portafogli taroccati un'operazione dei carabinieri il titolare è stato denunciato i carabinieri della stazione di Palmanova hanno effettuato negli scorsi giorni un maxi sequestro di merce contraffatta scoperta in un negozio gestito da un cittadino cinese di 67 anni all'interno di un centro commerciale all'ingrosso Pradamano il valore della merce contraffatta si aggira intorno ai 250 mila euro mentre il valore totale del danno prodotto alle case produttrici è da considerarsi pari a un milione e due i carabinieri hanno posto sotto sequestro 6.860 paia di occhiali da sole 22 portafogli e 19 casse acustiche bluetooth incidente stradale è stato riaperto al traffico verso le 15.30 in A34 lo svincolo in entrata a Villesse in direzione Bivio A4 chiuso in seguito ad un tamponamento fra due mezzi pesanti accaduto fra Villesse e Palmanova in direzione Venezia verso le 13.30 non è stato però l'unico incidente che si è verificato quest'oggi altri due sono accaduti nel primo pomeriggio in A4 e in A23 entrambi gli incidenti non hanno avuto forti ripercussioni sul traffico e sono stati risolti rapidamente e quella di oggi è stata una giornata in qualche modo storica potremmo definirla così per la provincia di Udine che praticamente ha chiuso il suo corso con la seduta di questa mattina infatti il consiglio provinciale ha chiuso la legislatura sabato il De Profundis con la chiusura del portone di Palazzo Belgrado che sancirà la fine dell'ente intermedio come stabilito dalla riforma regionale e l'arrivo quindi del commissario e non sono mancate le inevitabili polemiche tra le opposte fazioni è stata una legislatura un po' difficile chiaramente perché la provincia ha subito la riforma degli enti locali che ha creato un conflitto istituzionale mai accaduto in questa regione che quindi durante questi cinque anni abbiamo avuto modifiche di funzioni competenze, modifiche sul personale però penso che lo stesso questa assemblea sia stato un punto di riferimento per il popolo frulano un'assemblea elettiva di primo grado che ha saputo rispondere anche a esigenze del territorio La nostra regione prima in Italia è riuscita a fare questa grande riforma che ha visto la chiusura degli enti provinciali e quindi da quel punto di vista l'obiettivo è stato comunque raggiunto sono stati cinque anni comunque impegnativi perché ovviamente nella nostra funzione di opposizione abbiamo dovuto tra virgolette punzecchiare più volte diciamo la provincia nel aiutare quelli che sono gli enti locali sul territorio e favorire gli investimenti invece che fare sterili lotte politiche nei confronti della regione in questi cinque anni abbiamo fatto oltre 100 consigli provinciali 200 commissioni, 150 conferenze capigruppo su molti punti abbiamo trovato dei punti di riferimento continui io porrei io un'altra domanda ai friulani ma adesso dopo cinque anni dalla riforma della legge 26 secondo voi il friuli è più indebolito di prima? Non si può dire ovviamente che è stata una legislatura totalmente inutile sul territorio sono arrivate delle risorse e gli investimenti noi abbiamo sempre criticato un po' anche le modalità e l'assenza di una programmazione di un coinvolgimento del territorio stesso a partire dagli enti locali di sicuro delle cose positive sono state fatte cito una delle nostre battaglie principali che è stata quella della chiusura della ex e restiamo a Udine dove proprio complice la campagna elettorale si riaccendono le polemiche sulle presenze di immigrati irregolari in città sotto i riflettori in particolare l'area dell'ex caserma Piave di via Catania dove è stata segnalata l'attuale presenza abusiva di stranieri un problema segnalato da anni, vediamo a Udine si riaccendono le polemiche sulla presenza di migranti irregolari in città in particolare nell'area dell'ex caserma Piave il coordinatore comunale di Forza Italia Stefano Ceccotti ha diffuso ai media una serie di immagini ricevute come spiegato da alcuni residenti della zona fotografie scattate di recente negli spazi più interni dell'ex caserma dove si vedono panni e indumenti, cucine improvvisate, vecchi materassi e letti così commentano la situazione due signore che vivono a pochi passi dall'ingresso di via Catania e che non desiderano essere riprese non disturbano però c'è un via vai a un certo punto io se sento un rumore di notte ho una macchina a fermarsi se faccio un sussurro dico oddio i ladri quelli vengono a disturbare dopo però lui vanno a dormire lì dove ci sono c'erano gli appartamenti dei militari dove dormivano e lì ci sono bagni e tutto si sa quanti sono esattamente no, due o tre, a volte due o tre li vedo magari due volte alla settimana una volta ieri ne ho visti due è arrivata più ripresa anche la polizia? viene la polizia però la polizia arriva lì davanti al cancello fa un giretto e va indietro lei ha paura signora? eh, un po' di paura sì ha avuto mai qualche episodio increscioso per la sua sicurezza? no, però sì, no, per quello no io non so se ci sono o non ci sono non è compito mio questo, va bene? ma dico questo, che collegare l'insicurezza delle persone alla presenza di migranti è una strumentalizzazione politica quindi lei non ha disagi particolari? disagi particolari? ne ho, casomai, per altri motivi come possiamo preoccuparsi della sicurezza in Friuli legata ai migranti quando abbiamo basi missilistiche punti di vista diversi il mondo del lavoro ora, in particolare dell'artigianato meno pressione fiscale e burocrazia maggiori deleghe al centro di assistenza tecnica alle imprese sono queste alcune delle richieste rilanciate oggi dal presidente regionale di Confartigianato Graziano Tilatti ai candidati presidenti della regione cosa chiedono gli artigiani al futuro presidente della regione? beh, chiediamo di essere ascoltati come futuri promotori di sviluppo di economia e di occasioni per questa nostra regione vogliamo avere un ruolo principale non siamo più i partner poveri del sistema economico e per questo con determinazione e con umiltà ci mettiamo a disposizione chiediamo un cambio culturale nell'approccio al modello economico dei prossimi 5 anni che saranno importanti per determinare i prossimi 15 anni di sviluppo di questa regione torniamo ora a Grado dove oggi è iniziato un nuovo corso per la GIT con l'approvazione del nuovo statuto da parte dell'Assemblea dei Soci Alessandro Lovato è stato eletto amministratore unico lo abbiamo raggiunto telefonicamente mentre era in viaggio per l'Austria per farci spiegare cosa si propone per il futuro della GIT a cominciare dall'apertura della stagione fissata per il 13 maggio dopo esserne stato presidente del CDA Alessandro Lovato è stato eletto amministratore unico della GIT di Grado un voto che ha trovato unanime l'Assemblea dei Soci formata da Promoturismo, Comune e Camera di Commercio un'elezione che ha raccolto forti critiche da parte del centro-destra che avrebbe preferito attendere le elezioni regionali Lovato da parte sua guarda avanti La gestione precedente è stata una buona gestione è stato approvato anche il bilancio della GIT che è in positivo un bilancio diciamo di un'azienda che vorrei dire un'azienda seria perché è un bilancio che porta un utile di quasi 500 mila euro prima dell'imposta e pertanto è un bilancio di cui possiamo essere fieri come comunità graisana Qualche linea di indirizzo per la prossima estate? Ci sarà qualche novità particolare? Il percorso è stato di cominciare a ripulire la GIT nel senso di sistemare tutte le tante belle cose che la spiaggia aveva e che negli anni sono state trascurate abbiamo iniziato banalmente lo scorso anno dai campi tennis quest'anno andiamo avanti cercando di sistemare anche l'isola d'oro cioè un pezzettino alla volta vediamo di riportare la spiaggia ai fasti che aveva e che merita tuttora L'apertura della stagione quando? L'apertura la facciamo in concomitanza con le frecce tricolori un po' per dare questa idea di festa un po' proprio per dare l'idea che la stagione decolla pertanto il 13 maggio Con l'auspicio che il ponte sia riaperto? Per l'occasione sono certo che sarà aperto e adesso vediamo anche quanto tempo veramente hanno bisogno per sistemarlo cioè usciamo da quello che sono le dicerie e vediamo di confrontarsi in maniera seria L'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine sarà il primo centro in Europa a utilizzare un'innovativa tecnologia per il trattamento radioterapico del tumore al seno presentata stamane dal costo di 2 milioni di euro da giugno permetterà alle pazienti i trattamenti più brevi e mirati Tra circa un mese e mezzo l'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine sarà il primo centro in Europa a utilizzare un'innovativa tecnologia per il trattamento radioterapico del tumore al seno che in regione, stando a stime recenti, colpisce una donna su 8 GammaPod, dal costo di 2 milioni di euro rappresenta, come spiegato, un'opzione non invasiva per l'irradiazione parziale e stereotassica della mammella Questa è una tecnologia innovativa siamo i primi in Europa ad ottenerla e quindi ad utilizzarla e permette di erogare tutta la dose di radioterapia in una singola seduta e quindi risparmiando dalle 25-30 applicazioni la radioterapia viene concentrata tutta in un giorno e addirittura se le teorie vengono confermate da studi clinici in corso potremmo addirittura erogare tutta la radioterapia prima dell'intervento chirurgico e nel futuro possibilmente sostituire la radioterapia alla chirurgia possono beneficiarne la maggior parte delle donne che vengono operate al seno per un tumore iniziale grazie alla diagnosi precoce Continuiamo a parlare di sanità, David Sì, Giorgia, in ospedale proprio oggi in occasione appunto della presentazione di questa strumentazione sono stati anche spiegati i lavori delle migliorie al pronto soccorso con l'allargamento della sala d'attesa e il restyling del pronto soccorso che renderà da oggi appunto più rapida e funzionale l'accettazione e la gestione degli utenti, un intervento che si era reso necessario anche per migliorare il lavoro dei medici e degli infermieri in servizio al padiglione 1 Poi abbiamo anche un aggiornamento sulla caso di TBC all'ENAIP di Pazian di Prato se ne è discusso molto in questi giorni era emersa in giornata la notizia che uno dei ragazzi posti sotto controllo potesse avere appunto presentato esiti positivi a questi test dall'azienda sanitaria è arrivata una nota che dice nessun allarme, si verificano una ventina, trentina di casi di tubercolosi annualmente alcuni possono risultare falsi positivi anche per aver fatto il vaccino tanti anni fa se si sviluppa la malattia è comunque curabile l'eventuale positività al momento non vuol dire nulla e quindi l'azienda sanitaria si prende ancora del tempo per verificare al meglio quanto è successo Perfetto, grazie Davide, torniamo allo sport Torniamo allo sport, vi avevamo annunciato in apertura il collegamento con Maurizio Ferrari un collegamento che vi proporremo a seguito del nostro telegiornale dalle ore 21 con Giochiamo d'Anticipo perché a causa di alcuni ritardi negli spostamenti la squadra non è ancora giunta in albergo ma ovviamente ci collegheremo con Maurizio per avere tutti gli aggiornamenti e tutti i dettagli in serata Parliamo invece ora di Pordenone perché è riuscito a portare a casa un punto importantissimo in chiave playoff in una sfida delicatissima che si è conclusa con un pareggio arrivato negli ultimi istanti contro il Vicenza Ci racconta tutto Lorenzo Pausa Un punto prezioso in una gara al cardiopalmo che lascia pressoché inalterata la situazione in chiave playoff Il Pordenone riesce a muovere la classifica dopo i 90 intensissimi minuti di Vicenza faticando più del dovuto contro una squadra dimostratasi ben altra rispetto a una penultima della classe e tirando un sospiro di sollievo nel finale per quel rigore di De Giorgio infrantosi contro l'incrocio dei pali Non è arrivata la vittoria ma il pari del menti la squadra di Rossitto se lo tiene stretto Nessuna delle inseguitrici infatti è riuscita a prendersi il bottino pieno e in un girone così equilibrato la differenza la si può fare con poco La prima delle escluse della fase finale rimane al momento l'Albinoleffe che rimedia comunque un buon pari in casa della capolista Padova ma i tre punti che i neroverdi possono ancora amministrare sugli aerobici non rappresentano ancora un margine di tranquillità All'orizzonte infatti c'è un altro insidiosissimo scontro con la San Benedettese che sarà l'ultima apparizione dei ramari al bottecchia prima del turno di riposo e della trasferta a Meda per il confronto diretto con il Renate La vittoria è l'unica arma con cui Stefani e compagni possono fugare ogni dubbio e staccare il biglietto per proseguire la stagione Compie dieci anni il torneo Parco delle Colline Carniche che vedrà scendere in campo tra le giornate del 2 e del 3 giugno Pulcini e Giovanissimi una manifestazione che nel corso degli anni ha assunto un valore internazionale e che è diventato occasione di aggregazione e di approfondimento di tematiche quali alimentazione e fair play Calcio giovanile senza confini protagonista anche nella montagna ferulana con il torneo Parco delle Colline Carniche Alpe Adria organizzato dalla FIGC di Tolmezzo e dall'asso allenatori della Carnia un evento che coinvolge le categorie Pulcini e Giovanissimi e che è arrivato a spegnere la sua decima candelina Sabato 2 e domenica 3 giugno le giornate che vedranno misurarsi sui campi di Villa Santina e Tolmezzo i calciatori in erba e rappresentanza di 18 club L'Udinese sarà presente sia con la formazione classe 2004 di Mister Pontoni sia con i Pulcini 2009 allenati da Antonino Monorchio da oltre confine giungeranno invece i croati del Pazzin e gli sloveni dell'MNK Isola che nel torneo giovanissimo incontreranno oltre ai bianconeri anche i parietà del Pordenone e le rappresentative del Friuli e dell'Abruzzo una manifestazione che va al di là delle sfide sui campi e che punta a far conoscere a 360 gradi tutto il territorio carnico non mancheranno inoltre momenti di approfondimento con l'incontro con l'allenatore UEFA Jacopo Valente sul tema del divertimento per la crescita degli aspiranti calciatori E con questo servizio per lo sport è tutto Giorgia, linea a voi Grazie, grazie mille ad Alice grazie ancora a David Zanirato A te Giorgia E a voi come sempre per averci seguito Buon proseguimento di serata Grazie mille ad Alice